10 milioni di euro per il rilancio del sistema turistico dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto del 2009 a tanto ammontano le risorse che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha messo a disposizione del cratere sismico con una delibera cipe del 2016 tramite il programma Restart. Una misura attesissima dai comuni lotta da 10 anni contro lo spopolamento e la depressione economica e sociale che li attanaglia per una ricostruzione che spesso arranca per la sua complessità che la rende lunga e a volte piena di ostacoli. Restart è in sostanza uno strumento agevolativo rivolto alle piccole e medie imprese che intendono realizzare investimenti in grado di rafforzare l'attrattività e l'offerta turistica del territorio valorizzando il patrimonio naturale, storico e culturale rilanciando la vita sociale dei borghi. Questo bando è dedicato alle piccole e medie imprese del cratere Aquilano e l'Aquila in particolare che era rimasto fuori dal primo, dal precedente bando e deve servire per aiutare a migliorare le strutture ricettive o a crearne delle nuove e a creare anche un indotto che possa richiamare dal punto di vista per la cultura che come sappiamo insomma all'Aquila non manca. A gestire il bando a Invitalia il funzionario Vittorio Fresa spiega le caratteristiche tecniche per poter fruire della misura finanziaria per la quale le domande possono essere presentate già a partire dal prossimo 5 febbraio. Da quel momento potranno presentare domande imprese di nuova costituzione anche non ancora costituite, quindi team di persone che poi si costituiscono dopo l'eventuale approvazione del loro progetto di impresa o imprese già costituite. Una quantità di attività molto importante nel senso che possono essere attività nel campo della ricettività, alcune nel campo del commercio. Abbiamo avuto anche qualche piccola attività connessa alla produzione industriale purché legata alle filiere locali su prodotti per esempio naturali insomma nel precedente bando. I diretti interessati del bando sono i giovani imprenditori, ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco e di inventare nuove soluzioni per se stessi e per il loro territorio. Abbiamo bisogno di strutture, di accoglienza, di un supporto che la prima cosa che mi viene in mente può essere un bed and break, una spa piuttosto che anche delle palestre, le attività fisiche che si fanno d'inverno e d'estate sono tantissime. Quindi investire su strutture che ci danno la possibilità di accogliere le persone per più di due giorni.